Ed anche oggi un video di un minuto per annunciarvi che stiamo per andare in live, vi aspettiamo numerosi Cliccate il link in descrizione, guardate qua chi c'è, scopriremo tutto in live, siamo tanti come sempre E chi ha seguito i live di ieri sa a che punto siamo arrivati anche se oggi come al solito faremo il riassunto Ragazzi veramente vi aspettiamo numerosi, chiamate amici e parenti, chi volete Ho un forte mal di gola ma credo che in live tutto sommato riesca almeno a salutarvi Poi magari mi muto, faccio parlare gli altri, non lo so, ho mal di golissima ragazzi veramente Ora un pizzico di spray, un po' di musica e partiamo, vi aspettiamo Perché Lughe e Lughe 43 servici Perché Lughe e Lughe 43 servici Perché Lughe 43 servici Perché Lughe 44 servici Dono iker